Bentornati a Trame Raccontate Male. Beh, potevamo nel nostro viaggio non arrivare un giorno a incontrarci con Traviata? No, non era possibile. Oggi raccontiamo male la Traviata. La Traviata è la storia di una donna di allegri costumi che facendo leva sulla sua avvenenza fisica frequenta il Belmondo, una sorta di tronista dell'Ottocento. La storia è tratta dalla Signora delle Camele di Dumas Figlio e racconta la vita di questa cortigiana che 25 giorni al mese aveva una camelia bianca e 5 giorni al mese aveva una camelia rossa così da far sapere a chi di dovere quando era possibile incontrarla e quando no. Oh, ma va che non è mica una cattiva idea. Trama! Primo atto, festa mondana a casa di Violetta. Tra gli invitati c'è Alfredo che è l'ennesimo ammiratore. Ciccio, prendi il numero. Conscio che la ragazza è molto gettonata e che ha la genna in overbooking per mesi, per conquistarla Alfredo si gioca la carta del sentimento. Che ingine con le donne funziona sempre perché anche quella più smaliziata sotto sotto è una romanticona che sogna di sposarsi in abito bianco. Tra il barone Dufol, protettore di Violetta, Alfredo scatta subito una sana antipatia. Nel corso della festa Violetta ha un malore e non perché quel giorno avesse una camelia rossa. Alfredo, dopo aver fallito con la carta del sentimento, mette sul carico da 90. Si dimostra preoccupato e premuroso per la di lei salute. Un colpo basso perché Violetta, le attenzioni che è abituata a ricevere, sono per tutto, forché per la sua salute. Questa tattica quindi la fa barcollare, ma solo per pochi secondi. Violetta riprende subito il controllo della situa con un solo amistà dei io v'offro. Manuale del 2 di picche, capitolo 1. Il primo atto si sviluppa fra bagordi, gelosie e sempre verdi gossip, sino al finale dell'atto in cui Violetta è alquanto confusa. Dapprima offre ad Alfredo solo amicizia. 30 secondi dopo cambia idea e lo invita a vedersi il giorno dopo, con l'intenzione quindi di iniziare una relazione. Dopodiché ricambia idea e grida al mondo e a se stessa che l'amore non fa per lei e che continuerà a vivere come una cortigiana ignorando il cuore. Ora, Peppino, questa che hai scritto è una delle aree più belle e più famose della storia ed è perfetta per un finale di atto. Ma forse per la trama sarebbe stato meglio inserirla un po' prima. Ma Peppino non lo fa? Non mi dà mai retta. E nel secondo atto abbiamo la conferma di ciò che sospettavamo, Violetta e Bipolare. Perché dopo aver urlato al mondo io sono mia alla fine del primo atto, all'inizio del secondo atto la ritroviamo che convive in campagna con Alfredo da tre mesi, dopo aver abbandonato il barone di Folle e aver rinunciato alla vita mondana. L'ingenuo Alfredo non si rende conto che non lavorando lui, non esercitando più lei e non usufruendo di alcun reddito di cittadinanza? I soldi servono perché nell'Ottocento il traffico dati per l'iPhone e gli abbonamenti a piattaforme di streaming costavano un sacco. Per puro caso scopre dalla domestica Annina che Violetta sta vendendo tutti i suoi beni per racimolare i soldi necessari a fargli continuare la vacanza. Annina dice «Lo spendio è grande a vivere qui solinghi e tacevi?» la incalza Alfredo. «Mi fu il silenzio imposto», dice lei. E allora perché adesso glielo hai detto? Alfredo fa finalmente il maschio di casa e dice «Ghe pensimi!» Va quindi a Parigi a recuperare i soldi che servono e raccomanda a Annina di non dire niente a Violetta. Anche se, considerando che Violetta aveva detto a Annina di non dire niente a Alfredo e lei ha fatto subito la rana dalla bocca larga «Io sulla sua omertà non farei troppo affidamento». Mentre Alfredo è a Parigi arriva il di lui padre Giorgio Germont. Vi faccio notare che Violetta e Alfredo fanno i piccioncini da tre mesi e il padre arriva trenta secondi dopo che Alfredo è uscito improvvisamente di casa per andare a Parigi. Era postato fuori da casa loro non si spiega altrimenti. L'approccio di Germont è alquanto rough e pronti via accusa Violetta di ambire i beni di Alfredo. Lo dice però così ad cazzum perché se avesse solo dato uno sguardo al conto online di Alfredo avrebbe visto che la bella vita la sta pagando madame a lui altro che lui a lei. Anzi se non si sbriga a pagare qualche bolletta Alfredo rischia di passare da Toy Boy. Fallito quindi l'attacco frontale Germont comincia a lavorare Violetta ai fianchi e tira fuori una storia strappa lacrime. La convivenza tra Alfredo e Violetta sta generando scandalo nella Parigi bene e il fidanzato della sorella di Alfredo non vuole più sposarla. E ne troverò un altro capirai. Siamo nella capitale della lussuria del matrimonio combinato e ci formalizziamo tanto? Ma dai. Facciamo un passo indietro. Il malore che aveva avuto Violetta nel primo atto non era passeggero. Violetta ha la tisi e lo dice chiaramente a Germont. Non sapete che colpita d'altro morbo è la mia vita? che già presso il fin ne vedo che tradotto in italiano vuol dire non mi resta tanto da campare. Ora Germont sa che la scienza sta facendo passi da gigante e quindi poi magari una cura la trovano. E quindi cosa risponde a questa confessione a cuore aperto che le fa Violetta? Bella voi siete e giovane col tempo che un modo educato ma anche mellifluo di dire se gnocca un altro fesso lo trovi Germont non ci siamo capiti Violetta ti ha appena detto che sta tirando le cuoia di quale tempo stai vaneggiando Violetta resiste e Germont riparte l'attacco dicendo di stare attenta perché l'uomo si stanca presto e che i piaceri della carne sono effimeri soprattutto una volta passate bellezza e giovinezza Germont leggi il labiale Violetta non diventerà vecchia te l'ha detto Germont allora la mette sul personale guarda che quella è mio figlio lo conosco quello cambia più fidanzate che mutande bordellatore insaziabile beffeggiatore crapulone lesto di lengua e di spada facile al gozzoviglio ma Violetta strenuamente resiste e allora Germont fa all in l'unione di lei con Alfredo non ha futuro perché non sono sposati e allora sposatevi i moralisti non avranno più da ridire e la sorellina convolerà nozze anche lei te la butto lì magari potete unire le due cerimonie e risparmiate il suo ristorante ma Violetta a questa ipotesi non pensa e si avvia a una resa incondizionata lascerà Alfredo in cambio di niente vive per lui ma lo lascia e basta buono il dialogo fra sordi prosegue Violetta altre due volte gli dice che morrà e Germont risponde no generosa vivere e lieta voi dovrete potresti per favore dire a Germont che Violetta sta per morire perché secondo me non l'ha capito incassata la promessa che Violetta lascerà Alfredo in cambio di niente Germont esce un attimo a prendere il biglietto di ritorno del TGV giusto in tempo per far rientrare Alfredo di ritorno da Parigi ora prima vi ho detto che Alfredo è un ingenuo mi sbagliavo e invece proprio un po' idiota e d'altronde tenori geni nella storia dell'opera se ne contano ben pochi cosa succede Violetta gli nasconde veramente in maniera goffa e maldestra una lettera che stava scrivendo poi gli fa una scena madre di amore disperato e all'improvviso scappa via e lui niente non gli sembra strano rientra Germont che è sempre in agguato fuori in giardino e cerca di convincere il tonto a dimenticare Violetta e a ritornare a casa Alfredo però intuisce dove è andata Violetta e si precipita a lavare l'offesa torniamo a Parigi festa mondana Violetta in 30 secondi è tornata col barone di Foll che evidentemente orgoglio e dignità non sa neanche dove abitino di casa Violetta e Alfredo si incontrano e lei invece che dirgli che il di lui padre l'ha supplicata di lasciarlo fa la misteriosa e Alfredo che già di suo non è una cima non si chiede il perché di una strana coincidenza ricapitoliamo lui e Violetta facevano gli innamoratini da tre mesi andava tutto bene all'improvviso lei lo lascia curiosamente proprio nel momento in cui Germont per la prima volta va a trovarli o Alfredo ma te non sembra una strana concomitanza di eventi no ad Alfredo non pare una strana concomitanza di eventi e con gli occhi ancora iniettati di sangue decide di passare al contrattacco ora in questa situazione un italiano qualunque avrebbe preso un coltello e lo avrebbe conficcato in un paio di toraci almeno in uno ma qui siamo in Francia certe cose non si fanno Alfredo quindi davanti a tutti butta del denaro a Violetta in segno di disprezzo or testimon vi chiamo che qui pagata io l'ho e poi va a duellare col barone terzo atto Violetta è agli sgoccioli Germont te l'avevo detto è pieno carnevale e tutta Parigi impazza peccato che siamo le sette del mattino ora è vero che Parigi è una città viva ma alle sette del mattino dai Violetta legge una lettera in cui Germont le scrive di aver detto tutta la verità ad Alfredo e che entrambi stanno venendo da lei così è Alfredo si cosparge il capo di escrementi per averla ingiustamente trattata come una donna di coscia facile e invoca il suo perdono lei ora che è lì per andarsene realizza che forse sposarsi non è una cattiva idea io ve l'avevo già suggerito nel secondo atto non mi avete dato retta nonostante gli ottimistici vaticini di Germont Violetta aspira fra i braccia di Alfredo non prima però di essersi da moribonda alzate in piedi per poter sostenere l'acuto finale scritto da Peppino se non l'avete già fatto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella ci vediamo alla prossima trama raccontata male grazie a tutti